Benvenuti su Gossip Mania TV. Amore e gelosia. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tutta la verità svelata. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Ci sono sia buone che cattive notizie riguardo la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La buona notizia è che c'è ancora del tenero tra i due. Tuttavia, la cattiva notizia è che potrebbero esserci ancora delle gelosie e questioni irrisolte tra di loro. Questo è emerso dall'apparizione di Beatrice Luzzi al programma Diamoci del Tu. Durante l'intervista, l'attrice ha parlato in termini molto affettuosi di Giuseppe, ma una battuta del conduttore ha causato un momento di gelo. Anche se l'incidente è stato rapidamente risolto, è evidente che ci sono ancora delle questioni in sospeso tra i due ex concorrenti del grande fratello. Ecco i dettagli. La storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è ben nota. Durante il grande fratello, i due hanno sviluppato un forte legame, che ha sorpreso molti spettatori. Dopo un periodo di distacco, c'è stato un riavvicinamento finale che ha alimentato la curiosità dei fan. Tuttavia, Beatrice si è avvicinata a Vittorio, mentre Giuseppe ha cercato, senza successo, di attirare l'attenzione di Anita. Ora che il reality è finito, la domanda su cosa sia successo tra Beatrice e Giuseppe continua a rimanere senza una risposta chiara. I loro segnali contrastanti, anche sui social media, hanno lasciato i fan confusi e impazienti. Un indizio significativo sul loro rapporto è stato fornito dalla Luzzi durante la sua recente apparizione a Diamoci del Tu. Rispondendo a una domanda provocatoria del conduttore sul suo rapporto con Giuseppe, Beatrice ha detto, tra noi c'era indubbiamente un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare qualcuno e avere la sensazione di averlo conosciuto in un'altra vita. Questa dichiarazione romantica e poetica ha fatto capire che tra loro c'è ancora molto affetto. Tuttavia, il conduttore ha interrotto questo momento magico con una battuta, forse sei stata Anita in altre vite. Questo ha causato un momento di gelo, poiché Beatrice ha pensato immediatamente ad Anita Olivieri, la quasi fiamma di Giuseppe durante il Grande Fratello. Il malinteso è stato chiarito quando il conduttore ha spiegato che si riferiva ad Anita Garibaldi, la moglie storica dell'eroe dei due mondi. Beatrice, visibilmente sollevata, ha risposto, ah, Anita Garibaldi, capisco. Ora si tratta di capire come integrare questa antica via in quella moderna. Questa risposta ha mostrato che Beatrice è ancora molto affezionata a Giuseppe e che c'è ancora della chimica tra di loro. Nonostante le difficoltà e le questioni irrisolte, è evidente che il loro legame è forte e che potrebbe evolversi ulteriormente in futuro. La loro storia d'amore, nata tra le mura del Grande Fratello, continua a tenere banco e a catturare l'attenzione dei fan. La chimica tra loro è palpabile e, come Beatrice ha lasciato intendere, difficilmente può essere spezzata. In conclusione, mentre Beatrice e Giuseppe cercano di navigare tra i sentimenti e le aspettative reciproche, i fan restano in attesa di vedere come evolverà la loro relazione. Tra alti e bassi, gelosie e affetti profondi, la storia dei Beabaldi è tutt'altro che conclusa. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip!